Io adesso vi faccio vedere subito il raccolto che oggi mi piace tantissimo perché è veramente un raccolto. È un raccolto di opinioni di donne e quello che abbiamo visto è praticamente questa tematica che ha visto l'ambiente e la donna. Oggi, al Green Meeting Point, abbiamo Rossella Moroni, onorevole Rossella Moroni, quelle che portano la crisi sulle spalle, ver diese crise ausdrückt. Praticamente siamo partiti da questo concetto di donna, quanto importante è nella politica. Rossella Moroni ha iniziato che è emozionante, emozionante adesso essere qui assieme e che è proprio di questo che la politica ha bisogno. La politica ha bisogno di partecipazione e lei sente proprio a Roma dove vive la paura della povertà sulle strade vuote. Oggi mi piace tanto perché il focus è stato su Roma, però c'era anche una partecipante che adesso vive a Köln e c'era Alex che ci segue da Vienna. Rossella ha detto anche che forse nel nostro territorio sentiamo un po' di più questo Mitteleuropa e noi questo Mitteleuropa l'avevamo qui al nostro Green Meeting Point. Perché ha parlato di questa, di questo Mitteleuropa, perché era chiaro o è chiaro che la pari opportunità deve essere una, forse anche una materia o un intervento curricolare, come è stato detto, che deve essere capillare e su tutto il percorso scolastico, perché c'è questa disegulianza. La vediamo, la sentiamo e non solo adesso. Pettine e nodi che conosciamo già praticamente. Solo la crisi adesso fa arrivare a galla questa debolezza culturale. Rossella Muroni ha detto, Houston, abbiamo un problema. Tutto questo Green New Deal che è stato proclamato prima della crisi forse adesso non è più importante, perché adesso c'è il virus. Ne ha detto che su un comunicato di oggi ha scritto, l'ha intitolato Fossili e tutti maschi. Cioè questo fa vedere veramente la tematica di questo incontro fossili. Ritorniamo, ritorniamo all'energia petrolifera. E non solo questo. Al potere sono gli uomini. Praticamente facciamo un passo indietro. Abbiamo bisogno della consapevolezza delle donne per non ritornare indietro. Abbiamo l'occasione di guardare ad esperienze di capacità di gestione di donne al potere. Come possiamo vedere in Danimarca, come possiamo vedere anche in Nuova Zelandia. In Danimarca, come è stato detto, la Presidente si è rivolta ai bambini. Domani Rossella Muroni porta a Conte un decreto bambini per guardare al futuro. E Conte è uno che ascolta molto bene ed è molto presente nell'ascoltare. Però forse il governo è un po' troppo debole. E questo si sente anche perché le strategie per i comuni che vogliono ripartire, ripartire verdi, non esiste. Cioè cosa possiamo fare come donne? Donne che fanno politica, donne come noi. Come fare con i muri? E la risposta è venuta dalla donna che ha fatto la domanda. Cosa facciamo? Fare proposte. Adesso è il momento di fare proposte. Darci una spalata e fare proposte perché siamo forti e resilienti e soprattutto sappiamo abbinare mondi paralleli. Ti ringrazio per questo Green Meeting Point del 21 aprile 2020 e godiamo questa bellezza del momento. E ringrazio Rossella Muroni per essere in Parlamento per noi. Buona serata e ci risentiamo e ci rivediamo giovedì sulla stessa tematica con Barbara Plack.